Ciao bimbi! Questa sera è Gaia che ci regala la storia di Nersana. Nersana era la più bella delle undine, le creature delle acque, che vivevano nel torrente. Aveva un cuore gentile e buono, e sebbene nulla le mancasse per essere felice, la salute, la bellezza, la gioia di vivere, si rattristava per coloro che felici non erano. Un giorno, mentre passeggiava tra i boschi, incontrò un re che ne rimase così affascinato da chiederla in sposa poco tempo dopo. Nersana così rispose «Sono ben lieta di accettare di divenire tua compagna di vita, mio signore, ma non potrò sposarmi se prima non troveremo il modo di alleviare il dolore che condanna gli esseri viventi. Vorrei che d'ora in poi nessun bambino, nessuna donna, nessun uomo, né animale, né pianta debbano più conoscere il morso del dolore e la tristezza del pianto. Ti prego, esaudisci il mio desiderio e io sarò tua sposa». Il re fu veramente colpito dalla sensibilità dell'ondina e chiese consiglio i suoi ministri. Ma tornò poi rattristato a confessarle che era impotente a realizzare un sogno così difficile. Nersana, dopo aver a lungo riflettuto, disse «Beh, se è impossibile cancellare il dolore del mondo vorrei che almeno il giorno delle nostre nozze fossero sospese le pene di ogni essere vivente». Ma di nuovo i ministri e i saggi si riunirono per ascoltare la richiesta e risposero che una proposta del genere era pura follia. Allora Nersana modificò ancora il suo desiderio. «Noi ci sposeremo a mezzogiorno. Chiedo che da mezzogiorno a luna del pomeriggio, in questa ora di questo beato giorno, la pena e la tristezza siano bandite dal cuore degli esseri viventi e tutti provino la gioia più completa. È la mia condizione ultima per acconsentire alle nozze». E così si fece. Le nozze dell'Ondina furono celebrate nello splendore del mezzogiorno, in mezzo ai prati profumati delle Alpi. E in quel giorno e in quell'ora tutti sentirono dentro di sé una pace e una gioia straordinarie. E ancora oggi il dono di Nersana giunge nel cuore degli uomini. «Se voi passate nel primo pomeriggio nei boschi delle Alpi, vi sentirete invadere da una pace e una gioia infinite. Il profumo dei boschi, il cielo luminoso, il murmurio dei torrenti, il mugito degli animali, tutto sembra fondersi in un'armonia completa, in cui ogni pena sembra svanire». «Che bello, grazie Gaia che ci hai regalato la storia di Nersana». «Eh, che bello il cuore generoso che palpita, freme per il desiderio di condividere la sua gioia, la gioia del suo giorno di nozze, in questo caso con tutte le creature viventi, così che la sua gioia dilaghi e raggiunga anche i cuori che sono in pena per sospendere almeno per un po' la la loro pena, la loro tribolazione, partecipare la nostra gioia a coloro che ci stanno intorno. Chissà che anche i nostri cuori, un po' per volta, non si orientino a diventare come quello di Nersana, a voler condividere la gioia che ci abita. E quando non la troviamo, questa gioia, abbiamo bisogno di scavare un po', perché sotto, in fondo e in fondo, c'è sempre il fremito della gioia. Beh, bimbi, chiediamo di essere sorgenti di gioia per noi e per le persone che abbiamo intorno. Buonanotte.